E' un complimento che dovresti fare a Nadia, non a me. E' del tutto inutile dire cose carine a Nadia. Penserebbe immediatamente che io la stia prendendo per il culo. Gianni, non c'è ragazza al mondo che non apprezzi un bacio di te. E' un complimento. Questo mai e poi mai. Giusto, avete ragione. Bisogna continuare a lottare. Lo sai, Jean, ti invidio moltissimo. Tu almeno hai qualcosa con cui giocare. Marie, guarda che io non sto affatto giocando. Questa è un'enciclopedia. E' un libro che contiene tutto il sapere del mondo. E poi contiene un sacco di cose. Ci sono anche delle immagini porno. Se vuoi dare un'occhiata, tu hai il c***o di leoncino che è lì vicino. E' un segreto. No, così non vale. Si è dimenticato di me. Per quale motivo dice che Sean ha sbagliato? Non riesci a capirlo? No, non ci riesco. Qualunque cosa abbia fatto doveva proprio scri... Se non lo capisci, è inutile che te lo spieghi io. Nadia, è tutto quello che posso fare. Ti prego, perdonami. Ci sta. Porca vacca, per fare il verso non ho messo in fregata la battuta. Tutto questo tempo per ottenere solo quattro docce. Trovato che? No, no, fa finta che io non l'abbia detto. E io che mi stavo sforzando di... Che mi è accaduto? Che? La mia scavatrice con sistema di raffreddamento, motore centrifugo, olio pesante e cilindri idraulici. Va a f***la. Non voglio perdere le mie... Ma vada via. Ora basta, fammi uscire da questo posto. Voglio tornare indietro e vivere con la gente che amo. Che cosa mi aspetta nella vostra Atlantide? Cosa dovrei fare in un regno distrutto dove ormai non vive più nessuno? Voi volete affondare quest'isola? Ma noi non ce ne staremo qui a guardare con le mani in mano. E poi un vero uomo non si arrende mai. Non dimenticartelo. Non abbandonarti al tuo destino. Tu lo puoi sempre cambiare. Devi avere fiducia in te. Ah sì? Allora che cosa diavolo c'è in me in cui io dovrei... Sì, esatto, Jeanne. La mia non è una stirpe terrestre. Il mio popolo viene da un altro pianeta. Io non sono un essere umano. In me scorre il sangue di una st***a. Eccomi qui, Gargoyle. Se promette di non torcere un capello ai miei amici, l'allungo un po'. Perché gli uomini che vivono su un pianeta tanto bello non fanno altro che combattere fra loro? Luce di va bene! Non mi interrompere, Peroni. Voglio finire la battuta. Non ti confondere, Nadia. Sono un po' corta, la rifaccio. Già. Sì, spent! Oh no! 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 Sì, optimized!